we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi tantissime e interessantissime novità per quanto riguarda il futuro di fortnite ieri abbiamo visto il primo set di sfide per mida non erano assolutamente difficili siamo riusciti a completarla ma completarle ma nel video di oggi parleremo della storyline che si evolve e che ci porterà all'evento finalmente di questo capitolo 2 della season 2 ma non dimenticherò anche di far vi vedere una cosa molto curiosa riguardante una nuova skin ed una roba un po strana che sta per arrivare prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video delle news ma prima ragazzi di entrare nel video ci tengo a farvi la domandina leggo i vostri commenti proprio qua sotto la domanda di oggi non poteva che essere una ma tu quale versione sceglierai di mida e sì perché settimana prossima sarà l'ultimo blocco di missioni da 10 l'ultimo agente mida dovrà essere scelto in quale fazione partecipare bellissima la variante degli spettri bellissima anche la variante delle ombre devo dire che qua va proprio a gusto personale io credo che sceglierò quella degli spettri non lo so mi ispira di più tutto vestito di bianco dimmi quello che scegli tu qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance siamo subito ragazzi al primo argomento di oggi la nuova patch o meglio il nuovo mini aggiornamento che dovrebbe quasi sicuramente arriverà settimana prossima perché dico mini aggiornamento perché come vedete sarà una patch 12.41 quindi non era 12.50 che è la finale e posso confermarvi che ci sarà perché sono state modificate le api no le api le cose e che ci riguardano che riguardano il gameplay di quello che stiamo facendo e quindi test server sono finiti sono stasi sono messi negli stage server questo vuol dire appunto che la patch è pronta non aspettiamo di vedere chissà che cosa però sicuramente qualche aggiornamento arriverà e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi forse non lo sapete forse non avete neanche scaricato house party ma qualcuno l'ha fatto e posso finalmente darvi la notizia ufficiale pubblicata direttamente da fortnite nella loro pagina di twitter 20 milioni di voi di noi hanno risposto alle domande o meglio sono state risposte 20 milioni di domande questo vuol dire che entro pochi giorni tutti avremo finalmente la copertura un po come è successo per le sfide d'autunno l'anno scorso dove bisognava buono mi ricordo sinceramente quello che dovevamo fare ma abbiamo ottenuto tutti la copertura animata foglie d'autunno otterremo anche questa copertura animata che devo dire è veramente più bella di quell'altra dai tanta roba e quindi aspettatevi in uno di questi giorni nello shop un regalo direttamente da epic games ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi per chi ancora non avesse completato le sfide molto brevemente vi lascio qua scrinnatevi questa immagine perché è la mappa appunto della soluzione di tutto quello che c'è da fare ho caricato ugualmente i video sul mio canale youtube attenzione ieri sera ho caricato il video di come ottenere l'adesivo della gente bananita è una sono tre missioni segrete che non vengono dette da nessuna parte vi invito ad andare a dargli un'occhiata una manciata di secondi e potete prendere anche voi l'adesivo perché no fatelo non vi costa niente il video è sul canale ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi di nuovo si torna a parlare di icon series tra l'altro proprio curiosamente qualche giorno fa avevamo fatto un una parte di un video news dove vi facevo vedere come la community un po si lamentasse del fatto che l'unica cosa dedicata alle icon series sono state appunto è stato appunto il set di ninja poi da lì non si è più saputo nulla ma avevamo visto un post di reddit ufficiale di fortnite che annunciava sarebbero arrivate delle nuove cose dedicate a questa particolare serie e infatti così è stato perché saranno due balli a far parte del set icon series il primo si chiama di navi dynamic shuffle il secondo si chiama crazy boy e tra l'altro questo crazy boy viene preso da uno spezzone video vi faccio vedere qualche secondo perché non posso far vedere tutto il video il video è questo ragazzi e come vedete ci sono questi questo gruppo di ballerini appunto che si muove a tempo fa il ballo appunto che stiamo vedendo vi ricordo anche che è vero che crazy boy arriva da questo balletto famoso probabilmente quel ragazzo lì sarà qualcuno di conosciuto ma il ballo precedente invece non è altro che il vincitore del contest che uscì ormai un bel po di tempo fa che era l'emote royal contest un po come successe l'anno scorso per il non il buggy down l'orange justice avevamo votato il ballo più bello di quelli mandati allora non c'era tiktok diciamo come adesso quindi vince il ballo electric shuffle lo vedremo tra poco nel negozio ovviamente sarà obbligatorio shopparlo se lo volete purtroppo non ci verrà regalato ma andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi ragazzi e forse alcuni si sono accorti che sta succedendo qualcosa di particolare in game ovvero sia quando utilizzate quando entrate in partite normali alcune partite vengono fillate con dei bot che utilizzano delle skin non rilasciate o proprio qua delle immagini che arrivano da parte di giocatori che hanno appunto mostrato questo fatto a me sinceramente non è successo ma in questi giorni lo sapete gioco talmente pochissime singole che non me ne accorgo e come vedete abbiamo proprio addirittura abbiamo air head questa ragazzi è se non ricordo male della primo capitolo mai rilasciata quindi boh abbiamo anche una delle due skin una delle quattro skin scoperte nella patch 12.40 per arrivare poi a chiudere con un'altra delle nuove skin in arrivo questo potrebbe voler dire che i bot sono stati reintrodotti in game magari non più sotto forma di skin che conosciamo ma probabilmente di skin ancora non rilasciate se notate anche voi questa cosa ragazzi scrivetela qua sotto nei commenti perché ci tengo a capire un attimino anche io che cosa stanno facendo ed arriviamo all'ultimo argomento di oggi ragazzi molto molto importante questa immagine è da tenere in considerazione è un'immagine presente in game è un'immagine che trovate nella prigione e come state vedendo e come avete già capito ovviamente mostra un calendario guardiamo un attimo bene l'immagine sulla destra c'è una scrivania ribaltata là in alto invece quel pezzettino blu non è altro che uno schermo anche questo inclinato come se fosse stato appunto preso a pugni ma il calendario che è scritto sulla parete quindi è inciso è proprio il calendario che il prigioniero della prigione di cui vi ho mostrato un paio di giorni fa ha fatto e ci sono delle date importanti come vedete c'è una pizza sul 24 marzo si parla di marzo e ovviamente questo è un calendario che cita march 2020 c'è una x sul 31 e giustamente molti si chiedono ma cosa vuol dire questa cosa beh c'è una teoria veramente molto interessante che un ragazzo ha scritto e che ci dice che il 24 marzo è la data in cui c'è stata la patch e poi il 24 il 25 marzo è stata la data in cui è uscito oro ed infatti come abbiamo guardato nell'immagine precedente ci sono tutti i giorni successivi al 25 marzo scarabocchiati no infatti oro è rimasto fino al 31 nello shop dopodiché non lo abbiamo più visto questo ragazzi vorrebbe oltre dire che il prigioniero è scappato come vediamo da questa immagine che molto probabilmente ci saranno anche delle conseguenze per quanto riguarda l'agenzia perché oro e mida sono molto legati sappiamo che sta per arrivare una variante di oro delle ombre e sappiamo che l'agenzia verrà trasformata in ombre quindi ragazzi state attenti ai miei prossimi video perché tante cose stanno per succedere io vi ringrazio per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi al canale lasciate un bel like e io sono adesso in live su twitch ciao